Ciao, cari followers, un forte ritorno di pioggia, temporali e anche neve in Italia, a partire da domani sera, mercoledì e per le prossime 10 giorni, ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci con ammirazione per questo video, e vogliamo che questo video raggiunga più di 3000 miglia piace in modo che venga suggerito da un sistema YouTube al maggior numero possibile di italiani al fine di evitare maltempo e improvvisi perché come sai i temporali di solito si attivano all'improvviso e portano alla formazione di piene e torrenti, quindi è d'obbligo prudenza a partire da domani sera, mercoledì, specie nell'estremo nord, e seguite anche questo video fino alla fine per capire tutto. Quindi, in Italia sono attese quantità molto abbondanti di pioggia, a partire da domani, mercoledì 24 maggio 2023, e nei prossimi giorni 10. Regioni meridionali alla fine di questa settimana, in particolare venerdì, e a seguire nel mappa, quasi tutte le regioni d'Italia sono colorate del prossimo rosso, e quindi sono previste quantità di pioggia molto elevate in tutte le regioni d'Italia nei prossimi giorni, avvicinandosi o aggiustandosi a 170 mm in alcune regioni, soprattutto al nord e al centro, e si formano improvvisi allagamenti e torrenti, e resta da aspettarselo, soprattutto al nord, a partire dalla sera di domani, mercoledì. Perché i temporali, come sapete, si attivano all'improvviso e di solito portano grandi quantità di pioggia, e quindi è cautela e prudenza per le prossime ore di forti temporali che si attiveranno, che porteranno con sé grandi quantità di pioggia e anche grandine di piccole e grandi dimensioni e fino al ritorno della neve durante la fine di questa settimana, con uno spessore di circa o più di 30 cm nell'estremo nord e nelle zone di confine con la Francia e la Svizzera, e dettagli più precisi, cercheremo di fornirveli nelle prossime ore e, infine, buona salute!